I militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria, del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto il sequestro sul patrimonio riconducibile a Nicola Rocco Aquino, classe 49, originario di Marina Geosaionica, costituito da 24 fabbricati, 10 terreni agricoli, nonché quote societari e compendi aziendali relativi a 6 imprese commerciali, per un valore complessivo stimato in circa 6,5 milioni di euro. Il provvedimento si fonda sulle risultanze delle indagini dell'operazione denominata Crimine, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri e conclusa nel 2010 con l'esecuzione di provvedimenti restrittivi personali nei confronti di 119 soggetti, tra cui anche lo stesso Nicola Rocco Aquino, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso. Aquino, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era stato ritenuto intraneo all'omonima cosca d'Indrangheta operante a Marina Geosaionica. Aquino si era reso irreperibile scampando all'arresto e venendo dichiarato latitante, tale restava per quasi 4 anni sino alla revoca della misura disposta nel corso del giudizio di appello. Con sentenza di primo grado, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato Aquino colpevole, condannandolo alla pena di 12 anni di carcere. Successivamente, la Corte di Appello ha assolto per non aver commesso il fatto. In conseguenza delle indagini dell'operazione Crimine sono stati avviati gli accertamenti economico-patrimoniali, grazie ai quali i finanzieri hanno scoperto condotte delittuose dallo stesso posto in essere, le frequentazioni, legami parentali, precedenti giudiziari e gli altri elementi ritenuti fondamentali per la formulazione, ai sensi della normativa antimafia, da parte della competente autorità giudiziaria del prescritto giudizio prognostico sulla pericolosità sociale. La conseguente indagine ha consentito l'individuazione dei patrimoni dei quali gli stessi risultavano disporre direttamente o indirettamente, il cui valore era decisamente sproporzionato rispetto alla capacità reddituale dichiarata. I beni e i valori sequestrati sono 24 fabbricati e 10 terreni ubicati a Marina Geosaionica, Rocellaionica, Riace e Signano, il patrimonio aziendale della di Aquino Salvatore, con luogo di esercizio a Marina di Geosaionica, esercente l'attività di segagione e lavorazione delle pietre del marmo. E ancora il patrimonio aziendale della gioielleria Aquino di Aquino Maria, un luogo di esercizio posto anch'esso a Marina Geosaionica, esercente l'attività di commercio al dettaglio di articoli di gioielleria. E ancora quote sociali e patrimonio aziendale della regina SAS di Aquino Vincenzo, di Francesco Aquino e Co, con sede legale a Marina Geosaionica e unita locale bar Il Brutto Anatroccolo. Quote pari al 20% del capitale sociale della VBD immobiliare SRL. E ancora rapporti bancari e finanziari comunque riconducibili alla proposto e componenti del proprio nucleo familiare.